allora benvenuti a tutti se ne parla ormai da alcuni mesi oggi diventa realtà uno dei primi eventi in questo campo che sostituisce ciò che di solito avveniva sullo stage di un palco magari all'interno di una fiera come per esempio a ISEE oggi parleremo di audio video con noi di Aten chi è Aten? Aten è una multinazionale che è stata fondata in Taiwan nel 1979 siamo leader mondiale nei KWM e nell'audio video pro grazie Marco bene appunto ora come ha accennato il collega vi andrò a illustrare i trend riguardanti tutto il nostro portfoglio prodotti parlando quindi del trend per la categoria KWM per piccole e medie imprese posso subito dirvi che la famiglia di prodotti con più like è sicuramente la console a parte di console LCD KWM in particolare la nostra CL5708 quindi spostandoci sul sui trend per i KWM Enterprise abbiamo come famiglia di prodotti popolari i cavi adattatori KWM ora spostandosi nel trend del PROAV direi che in questa categoria il nostro cuore va alle matrici seamless con funzioni di video wall e scaler in particolare alla WM5808H invece vediamo ora il trend per lo smart energy i prodotti più popolari sia nella nostra area che nel resto dei paesi sono le nostre PDU di misurazione in particolare la PE1216G infine rieccoci all'Essential tutti quei prodotti che probabilmente non saranno il core delle vostre installazioni ma che risulteranno comunque appunto essenziali perché cosa per riuscire a fornire una soluzione completa al vostro cliente possiamo finalmente quindi introdurre i nostri intervistati di oggi iniziamo da te Katia prima le donne ti chiederei di presentarti al pubblico che ci ascolta buongiorno a tutti io sono Katia Gomereschi e sono qua in qualità di sales manager private label in Italia diciamo che i clienti del mondo B2B cubano quindi l'80% del nostro fatturato l'evoluzione di ET negli ultimi anni ha portato ad acquisire sempre più system integrator che hanno scelto ET per la gamma di prodotti a catalogo e soprattutto per il valore aggiunto che diamo offrendo anche delle soluzioni complete buongiorno a tutti io sono Andrea Trussoni e lavoro in DABATEC che è una realtà attiva da anni nel nord Italia è un insieme ben coordinato di sistemisti impiantisti e progettisti elettrici che ci consente di offrire al cliente un servizio chiave in mano per tutte le richieste impiantistiche tecnologiche ed integrazione tra i diversi sistemi Aten sin dall'inizio è stato uno dei nostri riferimenti più importanti per questo siamo stati affiancati e consigliati al meglio dai tecnici vecchi e nuovi e siamo sempre riusciti a risolvere al meglio gli eventuali problemi che si potessero presentare diciamo che secondo il mio punto di vista l'industria audio video è cambiata parecchio e direi meglio mi avrebbe proprio da dire questo grazie a tutti i professionisti e la capacità di questi ultimi di interagire sempre più con il mondo dell'IT ampliando così il range di opportunità e anche di interlocutori per esperienze recenti basti pensare anche alle nuove meeting room oppure alle sale di controllo dove interagiscono AV ed IT per poter arrivare a una soluzione completa. Riaccomi da te Andrea ora appunto andiamo un po più nel concreto parliamo di un progetto realizzato insieme per un importante ospedale puoi dirci qualcosa qual era la tua esigenza. Abbiamo partecipato appunto a una gara d'appalto che prevedeva l'ammodernamento del sistema di distribuzione audio video per l'aula magna di questo ospedale. La gara prevedeva ovviamente l'offerta economica più bassa ma una grossa fetta del punto di giro è data anche dalla proposta tecnologica che si andava a presentare. Abbiamo valutato internamente tra i nostri partner e fornitori che avevamo a disposizione e la scelta è accaduta appunto su Aten proprio per il binomio qualità e stabilità dei prodotti e comunque l'assistenza di personale competente e tecnicamente preparato. Due domande ancora per entrambi. Quali saranno le sfide future e cosa vi aspettate che accada nel settore? Quali cambiamenti? Sicuramente ci sarà un crescendo della qualità video richiesta, soluzioni all in one che offrono funzioni di video wall, multilute, streaming, recording eccetera. Con però un controllo semplice e funzionale anche agli utenti meno spillati. Secondo me diciamo che saranno sempre richiesti più prodotti con risoluzioni video di alta qualità che permettono la multigestione e il controllo a distanza ma secondo me una certezza sarà richiesta da parte dei clienti di professionalità e di servizio e qualità. Io ribadisco questo perché è la base del futuro. E a questo punto vi ringraziamo per l'attenzione, per aver partecipato a questo evento. Ringraziamo i nostri partners. Grazie a voi. Grazie dell'opportunità e ci sentiamo sicuramente presto, guarda noi.